Governatore, un importante intervento, 5 milioni di euro la regione Campania ha stanziato per il comunio di Castellavare. Il porto turistico riacquisirà degnamente di rilezza e fruibilità. Credo di sì perché 5 milioni di euro è un intervento che è inserito in un programma di finanziamento della portualità del Cilento per un importo di 75 milioni di euro. Avremo interventi altrettanto importanti a Camerota, Centola, tutta la fascia costiera, avremo interventi molto importanti. O secondo gli interventi che abbiamo previsto per l'anno di crisi, abbiamo deciso interventi sulla viabilità, perché la viabilità è saltata in tutare un po' di crisi delle province, quindi abbiamo dovuto destinare risorse importanti anche per la viabilità. Parte a breve il servizio dell'alta velocità, il collegamento con i traghetti da Napoli, alle isole per il Cilento, ma soprattutto l'alta velocità ha avuto un buon successo, un buon riscontro lo scorso anno. Ci stiamo preparando al meglio per dare una mano ai territori per il rilancio della nostra economia. L'auspicio è che manteniamo comportamenti responsabili.